Fano è il primo comune in Italia nella fascia tra 50 e 100 mila abitanti con la migliore prestazione in termini di raccolta differenziata, avvio al riciclo e risparmio in emissioni di CO2 equivalente. La leadership nazionale è emersa durante la presentazione della quinta edizione del Rapporto Nazionale del Lanci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, grazie ad un'indagine partita dalla Banca Dati che dal 2009 raccoglie informazioni sulle raccolte differenziate. Alla premiazione che si è tenuta lunedì 26 ottobre a Roma erano presenti sia la presidente di ASSPA Lucia Capodagli che l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin. È per noi ovviamente motivo di grande orgoglio ma un ringraziamento grande va fatto ovviamente all'azienda, ad ASSPA per il lavoro svolto e anche le cittadine e cittadini fanesi che hanno dimostrato con particolare sensibilità e impegno che alcuni risultati possono essere effettivamente raggiunti se c'è una condivisione profonda tra le scelte e le politiche dell'amministrazione sul piano ambientale e quello che poi è la risposta dei cittadini. In questo senso il lavoro svolto da ASSPA è stato veramente importante ed è anche la dimostrazione che la gestione pubblica può produrre effettivamente delle eccellenze, soprattutto in campo ambientale. A ringraziare i cittadini per l'impegno e la sensibilità dimostrata è anche la presidente dell'azienda pubblica. È stato avviato a raccolta differenziata una percentuale superiore al 71% e di questa, secondo la normativa 98 del 2008 della Comunità Europea, abbiamo superato il 50% dell'avvio al recupero in quanto siamo oltre il 61%. Questo obiettivo raggiunto dalla città porterà diversi benefici, non solo in termini ambientali ma anche economici, perché potranno essere effettuati ulteriori investimenti. Il modello di raccolta che l'azienda ha messo in piedi ha un giusto compromesso tra benefici e anche costi di gestione, quindi questo è un dato molto importante e può essere un modello che può essere riproposto anche in sede provinciale quanto l'altro dovrà decidere che metodologia di raccolta adoperare.